Prima di tutto vorremmo dedicare questa vittoria ad Alberto che purtroppo a giornate di ieri ha avuto un grave lutto in famiglia e quindi tutta l'organizzazione nostra, il club, i giocatori, naturalmente noi dedichiamo questa vittoria ad Alberto e ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore, quindi la vittoria è tutta per lui e per la sua famiglia. Detto questo credo che abbiamo assolutamente giocato la nostra miglior partita fuori casa, al di là della vittoria che naturalmente è una vittoria molto importante, molto pesante, soprattutto per consistenza. Era una delle cose che avevo chiesto ai giocatori, di avere consistenza all'interno della partita. Credo che siano stati veramente molto bravi a non perdere il filo anche quando Rita giustamente è tornata dentro alla partita. Noi abbiamo avuto problemi di falli, soprattutto con Austin Day, ma credo che il passo avanti sia assolutamente quanto siamo stati consistenti nel continuare a giocare, a trovare energie e risorse da tutti i giocatori. Di stimolianza sono le poche palle perse fatte, credo appena 12, e invece i tanti assist che sono 23, che è un elemento molto importante. Quindi una vittoria che ci dà autostima come senso di squadra per la nostra crescita, nel nostro percorso, al di là della pesantezza della vittoria in ottica proseguo di questa difficile Euro Cup.